Sono partiti i lavori per la realizzazione della spiaggia degli sposi ad Ostia, nell'area di fronte all'ex colonia Vittorio Emanuele. Il progetto nasce con una delibera di assemblea capitolina e sta prendendo forma grazie alla collaborazione tra il gabinetto del sindaco e il decimo municipio, fa sapere la presidente Di Pillo. Abbiamo montato il gazebo sotto il quale gli innamorati potranno convogliare a nozze e in seguito verrà installata anche una passerella, conclude Di Pillo. I cantieri sono in corso ma già stanno arrivando molte richieste. Tra pochissimo, chi vorrà sposarsi al tramonto del mare di Roma potrà farlo in un luogo accogliente e ben curato, ha dichiarato l'assessore all'ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva. Si tratta di un sogno che avevamo da tempo e che finalmente si realizza, aggiunge il consigliere capitolino Paolo Ferrara. Una struttura bianca che ospiterà i giovani e meno giovani, che potranno pronunciare il fatidico sì a due passi dalla riva, tra fiaccole, veli e decorazioni floreali. Conclude, abbiamo pensato a tutto, al rispetto delle normative, alla programmazione e agli sviluppi futuri.